Buongiorno In questo video proverò una cosa che ho visto su Instagram Mi ha mandato qualcuno di voi Ora vi dico anche chi Giorgiano.Gliapponi Allora Ti ringrazio per avermi mandato questo Hack, trucco Quel cazzo che è E consiste nel prendere La mina di una matita Cioè prendere un pezzetto Quindi la sgraffignerò con un coltello E prenderò proprio la mina Senza cialentano Prenderò Prenderò la mina di una matita La metterò al microonde per 3 minuti A potenza diciamo media E dopodiché Andremo a vedere che cosa succede La metterò in un piattino Ci metterò un pochino d'acqua Dopodiché dopo questi fattivici 3 minuti La mina dovrebbe trovarsi tutta sbriciolata E tra le sbriciolacchie Ci dovrebbe essere Un frammento di cristallo Che va pulito E proprio un cristallino Un sbrillantino che potete usare Per il cazzo che volete da esporre In una creazione Potete farci quello che volete Ora a me sembra un po' surreale Però le recensioni dicevano appunto Nei commenti dicevano che La punta della mina Contiene La grafite Insomma si chiami Contiene un minerale Contiene un minerale Che una volta messo al microonde Con la potenza del microonde Non va bene Se uno serve al microonde Si scompatta E si sbriciola tutto Tranne appunto il minerale Che all'interno Che si agglomera E forma questa pallina Di cristalli Ora a me sembra Boh assolutamente Unreal Però lo proviamo Perché tanto Chissà ne frega Siamo qua apposta Quindi ora Andiamo a Prendere un pezzettino Di mina E Eccola qui La laufina L'avete sentita E qua Allora Prendo un piattino Si lo so che ci vorrebbe bianco Per vedere meglio Però spicherà di più Il cristallo Se mai ce ne saranno tutti Prendo la matita E vado a fare L'uomo habilis Ovvero Staccugno Ditemi come si vede Con il tablet Se si vede meglio Peggio Ugual Perché mi è molto comodo Fare i video Col tablet Se mi dite che La qualità È Supportable Li farò sempre col tablet Ecco fatto Vedete L'ho un po' Scappezzolata E ora Prendo la puntina E la metto A chi Lo potete vedere È A chi Ora ci metterò Un ditino d'acqua Proprio nel cerchiolino Qua Del piattino E la vado E la vado a mettere Al microonde Per potenza Media Tre minuti Ci rivediamo Per vedere Le risulti Sto motorino Che passa Nel culo Del video Sì 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 Molto bene Torniamo A frappac Ok raghi Praticamente L'ho tolta dal microonde Ho asciugato un pochettino L'acquetta Con un po' Di carta E come potete vedere Tra le bricioline Di Nina C'è anche Cilentano C'è questo Guardate un po' Riesco a farvelo vedere Metta fuoco Metta fuoco Comunque Cioè È proprio Un diamantino Cioè Un minerale Bellissimo Cioè Che figata Quindi se lo faccio Con una valanga Di matite Posso fare Un diamante Guardate che bello Cioè Ragazzi È bellissimo Eh Non riesco a farvelo vedere Perché brilla proprio Cioè È fighissimo Ma che bello Guardate Che bello Ragazzi Beh posso dire Che finalmente Un esperimento Mi è riuscito Sono molto felice Bene Questo è tutto E se provate a farlo Mi raccomando Mandatemi foto Su instacaz E poi c'è tutto C'è tutto Cosa Aspetta Sono una cosa Ok Ora prendiamo Un pezzo Di resina Così Facciamo Sto bel troll E va Ehm È tutto vero Questo video Ve lo giuro Buon primo aprile Ve l'ho fatta Stavolta Ve l'ho fatta Anzi Disabiliterò I commenti Così non potrete Segnalare ad altri Che è un troll E dietro la stuccia Quanto sono simpi E la resina Raghi Cioè Veramente Potete credere Che a me Venga Un giochini maturi Venga Un hack Di instagram Se ci avete creduto Siete nuovi iscritti O siete molto speranzosi Ha risciuto Alla fine Di Blam 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 Venga